Ma è proprio lui? Isola dei famosi, spunta l'ospite speciale al party di fine produzione. Al termine del programma, una grande festa riunisce partecipanti, staff e ospiti per celebrare insieme. Tra gli assenti, per vari motivi, anche Joe Bastianich, Pietro Fanelli, Peppe Di Napoli e Francesco Benigno, quest'ultimo probabilmente bandito dall'evento. Ma l'attenzione era tutta su un ospite inatteso. Accanto a Sonia Bruganelli c'era Angelo Madonia. I rumors li vedono come una coppia e gli scatti della serata sembrano confermarlo. Il ballerino di Ballando con le stelle è apparso nelle storie Instagram di Matilde Brandi, ballando persino una coreografia di Dirty Dancing con Sonia. Chi parla di loro come una coppia innamorata potrebbe aver ragione.